Le volevo fare una domanda da Milanista. Sul nuovo stadio, è un po' dispiaciuto sull'ipotetica nuova costruzione? Le chiede a... Io, insomma, il bene della squadra... Il trend è quello, che fanno nuovi stadi dove lavorano tutti i giorni praticamente. Però è chiaro che io ho 84 anni, ho visto le Champions, gli Scudetti lì, ho la nostalgia di quello. Però la ricerca di Tamperdu lasciamo ai vecchi, ai giovani invece i nuovi.